Ciao ragazzi, betati in questo nuovo video e come avrete letto dal titolo, questo video sarà un videotag. Allora, appunto, come avrete letto dal titolo, in questo video vi mostrerò le cose che mi entrano in bocca. Allora, ci tengo a dire che non ha niente a livello sessuale, anche perché se mostrassi un uccello YouTube mi censurerebbe il video. Però iniziamo. Oggetto numero uno, il luci da labbra. Beh, io direi che è entrato. Oggetto numero due, un fantasmino. Leviamo prima tutti i peli. Beh, io direi che è entrato. E l'ho pure un po' zozzato di luci da labbra, non so se si vede. Oggetto numero tre, un calzino da uomo. Beh, io direi che è entrato. Oggetto numero quattro, vediamo se mi entra un pugno. Uh. Beh, io direi che è entrato. Oggetto numero tre, un flauto. Oggetto numero quattro. due flauti. Questo sarà difficile, ma ci proviamo. So, il primo. Oggetto numero quattro. Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' E niente ragazzi Spero che questo video tag vi sia piaciuto Se lo rifate taggatemi Fatemi sapere cosa Entra nelle vostre bocche Io non pensavo C'entrassi tutta questa roba Di avere una bocca così larga Mi fa piacere Ho scoperto un talento Che non sapevo di avere Infatti è anche utile fare questi video Perché la gente ha capito Scopre talenti che non sa E quindi niente ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Fatemi sapere se lo rifate a casa Grazie Spero che la moda dei video tag torni Baci stellari